La cintura è quella del campione italiano dei Super Welter, siamo con Adriano Nicchi, 48 ore dopo il match, intanto ti vedo in gran forma. Sì, stiamo benissimo, se sto recuperando qualche musica ci sta nel viso, penso che sia anche normale. Non lavori in ufficio, ma fai il pugile. Esatto, esatto, sì. Sì, abbiamo descritto un match in crescendo, difficile nella prima parte, fino alla terza ripresa, poi dopo con quei tre cazzottoni che hai piazzato il match ha cambiato corso. Sì, diciamo che anche le prime riprese era un po' tutto già gestito, che si sapeva che doveva andare in questo modo. Sapevo che potevo perdere le prime riprese, perciò ero d'accordo a perdere anche le prime riprese. In realtà era perso solo uno, gli altri due erano in parità. Sì, sì, ma io l'avevo messo già in conto comunque, perché tanto era andare sulle 10 riprese tranquillamente. E' quello che volevo fare. Siamo riusciti a mantenere la calma sempre in tutte le 10 riprese, grazie anche all'angolo, perché veramente ho avuto un cornerman bellissimo. Un avversario che si è dimostrato all'altezza, un vero sfidato è stato, saldamente. Assolutamente, con sei incontri, devo dire, un signore avversario. Le prime riprese è stato veramente un gran pugile, veramente dimostrato tanta gente, tanta voglia di vincere, di portarmi via la cintura. Devo dire che la voglia ce l'aveva tantissima. Senti, le vittorie fanno sempre bene in tutti gli sport, soprattutto nel pugilato, ma adesso intanto si chiedono, bisognerà aspettare altri sei mesi per vedere Adriano combattere? Allora, non sta a me a dirlo. Io sono sempre il pugile e spero di combattere il prima possibile. Spero che appunto ora la manager mi trovi nelle soluzioni migliori per poter combattere e di poter fare altri titoli che preferirei. Questa vittoria aumenta il tuo punteggio anche in Italia, visto che hai un pugile davanti. Sì, senza altro, spero proprio di sì, questo è sempre il hacking italiano che deve vedere come mettermi in posizione. Io spero di aver fatto una bella figura, di aver fatto appunto con un bel pugile, nel senso che diano un bel valore anche come punteggio. Comunque sono sempre secondo in gradatoria ancora e va bene così. Siano pronto per il salto in Europa? Io sono pronto a tutto. Siano pronto per il salto in Europa.